Pensa a un mondo dove tre regole sfidano ogni logica. Questa è la Corea del Nord. Sei pronto? Al terzo posto, una moda proibita. I jeans. Indossare jeans è considerato un atto di ribellione. Sono banditi perché rappresentano una corruzione culturale dell'Occidente. Regalami un mi piace e iscriviti al canale. Ti prometto che le sorprese non finiscono qui. Al secondo posto, un tabù che sfida la natura umana. L'espressione della propria sessualità. L'omosessualità non solo è negata, ma è vista come una malattia contagiosa importata dall'Occidente. E ora, al primo posto, una legge sopra ogni immaginazione. Non piangere abbastanza ai funerali. Dei leader supremi può costarti la vita. La mancanza di lacrime è vista come un segno di tradimento verso il regime che può portare alla pena capitale. Incredibile, vero? Lascia il tuo commento.